Che cazzo è successo qui? Eccoci qua! A Dave! Al dottor Dave! Alle mie fatiche! Domani! Domani che cosa? Scusate, perché non andiamo a campeggiare domani? Allora, non ce lo racconti? Raccontarvi cosa? Il sogno che hai fatto questa notte! È un vero peccato avvenire le carne così fresca! Idiota! Può sentire la tua voce? Me ne prego! Io me la scoperei! Ho sentito un rumore finiva da fuori! Come fate a non sentirlo? Era ancora quel maledetto rumore! Sara! Annato torno! Sara! Non riesco a venire! Dov'è Sara? Dov'è Sara? Sara pure mi rispondi bene! Dave, dammi una mano! Sta perdendo sangue! Che cazzo sei tu? Non c'è l'amore! Ma che c'è l'ora di chimico? Sì! Grazie per la visione!